Con la fiaccolata della memoria si sono concluse le iniziative della giornata dedicata al ricordo del terremoto del 31 ottobre 2002 e del crollo della Scuola Iovine di San Giuliano di Puglia. 27 palloncini bianchi e uno rosso sono stati liberati verso il cielo pieno di stelle dal parco costruito sulle macerie dell'edificio crollato, ognuno accompagnato dal nome e dal cognome delle vittime pronunciati da una delle tante mamme che non hanno più potuto abbracciare un figlio vivo. Colantuono Maria, Delisio Melisa, Di Cera Sergio, Di Renzo Antonio. Momenti di forte commozione a distanza di 14 anni che hanno coinvolto la comunità del paese più colpito da un sisma lontano solo nel tempo, ma sempre vicino nel cuore e negli affetti in questi giorni di preoccupazione per le scosse avvenute in Italia centrale, dove ci sono migliaia di sfollati e si è messa in moto la macchina degli aiuti. Un abbraccio di solidarietà e un monito sempre forte alle istituzioni per rinnovare l'attenzione sui temi della sicurezza e della prevenzione quando si costruiscono le scuole e le case, partendo proprio dalla tragedia di San Giuliano di Puglia e dal suo insegnamento che non può e non deve essere dimenticato. In tanti hanno illuminato, portando le fiaccole ardenti, i luoghi del dolore e della riflessione, dal Parco della Memoria al Palazzetto dello Sport che fu trasformato in una grande camera ardente fino al cimitero dove ci sono le tombe dei bambini. La luce della preghiera, dell'unità tra le generazioni, tra chi continua a vivere a San Giuliano e in questa giornata consolida un sentimento di affetto, rispetto e consapevolezza. La lunga veglia di preghiera in chiesa si è conclusa con la Messa di Ogni Santi celebrata dal Vescovo Gianfranco De Luca che ha rinnovato un messaggio di vicinanza, unità e speranza nel futuro.